Dramma in provincia di Napoli, un ragazzo di 15 anni è morto mentre nuotava in piscina in un agriturismo di San Sebastiano al Vesuvio. La tragedia è avvenuta questa mattina in una struttura ricettiva che si trova in via Flauti nel comune del Vesuviano. Immediati soccorsi con l'ambulanza del 118 arrivata sul posto. Il personale sanitario però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Le cause sono al momento in fase di accertamento. Sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini ascoltando le testimonianze dei presenti. Secondo le prime ricostruzioni sembra che il ragazzo sia morto in piscina forse a causa di un malore improvviso mentre nuotava. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di torre annunziata per i rilievi.